Covid in Abruzzo, oltre mille positivi e due decessi, scoperta a Chieti la variante Pentagon, primo caso in Italia, è molto contagiosa, isolata nel laboratorio di genetica molecolare dell'università, il professor Stupia fate i vaccini. Ecco bonus e sisma bonus, truffa da 11 milioni, operazione della finanza, nei guai un gruppo di imprenditori teramani, emesse fatture per opere mai realizzate. Tappi della solidarietà ai quadri di muschio, Oscar Green a tanti giovani agricoltori, l'appello dell'abruzzese fuorisede, non scappate dalla vostra terra e reinventatevi. Lo stadio Bonolis diventa un caso, l'ex presidente Iachini, nessuno mi ha offerto 50 mila euro per l'utilizzo dell'impianto, Rastelli preferisce risparmiare e restare a Montorio. E ben ritrovati insieme con una nuova edizione del nostro TG Abruzzo in apertura. Parliamo ancora di coronavirus perché è stata isolata nel laboratorio di genetica molecolare dell'università di Chieti una nuova variante, primo caso in Italia, si chiama Pentagon. Cercavano altri casi di centaurus dopo i tre scoperti nel teramano, si sono imbattuti nella rarissima variante Pentagon di provenienza asiatica, un derivato di Omicron 2 e molto aggressiva. Nel laboratorio di genetica molecolare dell'università di Chieti, diretto dal professor Liborio Stuppia, è stato isolato un caso di una variante che in Italia non era ancora mai arrivata e che anche in Europa non sembrerebbe avere precedenti. Il direttore del laboratorio spiega le sue caratteristiche. Professore, cercavate centaurus, invece è uscita fuori un'altra variante, che tipo di caratteristiche ha e qual è la situazione in questo momento? È una variante molto molto rara, stiamo verificando, stamattina potrebbe essere non solo il primo caso in Italia ma addirittura il primo caso in Europa, per cui adesso stiamo facendo un tracciamento del paziente per vedere se per caso è stato in vacanza all'estero, è una variante tipica della regione asiatica. È un derivato di Omicron 2, con molte mutazioni, quindi probabilmente molto infettiva. Adesso se rimane un singolo caso sporadico, ovviamente non sarà niente di grave, dobbiamo verificare sul territorio se ce ne sono altri. Come l'avete chiamata? Non noi, perché i nomi vengono già dati all'inizio, è del gruppo, si chiama tecnicamente XBB1, ma rientra nel gruppo di quelle che si chiamano Pentagon, con questi nomi ormai abbastanza suggestivi, quindi la possiamo chiamare Pentagon per comodità. Come caratteristiche è una variante di Omicron? È una variante di Omicron 2, ripeto, molto ricca di mutazioni in S, ormai abbiamo imparato che quando sono ricche di mutazioni in S sono molto infettive. Infatti è una variante che in Asia viene attenzionata perché è infettiva, però in Europa sembrerebbe dire adesso dobbiamo verificare perché non è che è automatico dire che è la prima, quindi stiamo interrogando le banche dati per verificare se è veramente il primo caso europeo. A questo punto con il rischio di varianti sempre nuove e con la stagione fredda dietro l'angolo, dice il professore, fare i vaccini diventa fondamentale. Ah sì, assolutamente, perché tanto noi comunque continuiamo ad avere tutti i derivati della Omicron. Omicron 5 è comunque ancora prevalente, Centaurus non ha sfondato, alla fine si sono trovati alcuni casi ma non ha sfondato. Questo è il momento di intervenire con i vaccini anti-Omicron per metterci al sicuro tutto l'inverno e potrebbe essere veramente una svolta. I vaccini attuali che tipo di copertura danno e come bisogna regolarsi? Allora, quelli che in questi giorni sono disponibili coprono contro tutte le Omicron, quindi anche la 4 o la 5, quindi vanno benissimo anche su tutte le varianti di Omicron 2, di Omicron 5. Il vaccino vecchio invece si è visto che copre poco, se non fare la quarta dose agli anziani è importante per coprirli dagli effetti della possibile infezione. E a proposito di Covid, sono 1148 i casi positivi registrati oggi in Abruzzo, due le vittime, una 51enne e un 70enne. Negli ospedali ci sono 164 pazienti ricoverati in area medica, meno 4 rispetto a ieri, uno invariato rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Ci sono inoltre 1438 guariti in più rispetto a ieri. E a Teramo, il piccolo di 19 mesi, morto per una malformazione congenita, l'autopsia porta alla luce. La verità, dunque non potrebbero esserci responsabilità da parte dei genitori e dei soccorritori. Sentiamo. Francesco è morto per una malformazione congenita. Il piccolo di 19 mesi era deceduto tra le braccia della mamma durante il trasporto all'ospedale Mazzini di Teramo. L'autopsia, eseguita in mattinata dall'anatomo patologa Gina Quaglione, ha confermato il sospetto che esclude qualsiasi responsabilità da parte di altri genitori o soccorritori che siano. Tutte persone che si sono spese per oltre un'ora nel tentativo disperato di strapparlo alla morte dopo che si era sentito male. Il piccolo è deceduto a seguito di un'emorragia cerebrale a causa della rottura di un vaso. Dopo essersi sentito male, il bambino era andato in arresto cardiaco. I genitori avevano chiamato il 118 e il cosiddetto rendezvous con l'automedica era avvenuto alle porte di Teramo. Inutili le manovre di rianimazione. Il bimbo aveva cominciato a lamentarsi nel tragitto con i genitori in auto mentre la coppia si recava ad una cena. La mamma, nel tentativo di calmarlo, lo aveva attaccato al seno, pensando che potesse avere ancora fame o che in quel modo potesse tranquillizzarlo. Tutto però è risultato vano, finché non si è compreso che la situazione era gravissima. Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere, una notizia che ha sconvolto la nostra comunità. È il cordoglio del sindaco di Cellino Attanasio che aggiunge non riusciamo mai ad abituarci alla morte di un caro. Impossibile farlo davanti a quella improvvisa di un piccolo bimbo. È troppo e la vita ci sembra solo ingiusta e cattiva. Una tragedia davvero terribile di fronte alla quale non si hanno parole. E ora voltiamo pagina, ma continuiamo con la cronaca. Ecobonus e sismabonus stanata dalla finanza. Una truffa record da 11 milioni di euro per opere mai effettuate. Sentiamo i dettagli nel servizio di Matteo Porfiri. Una truffa ai danni dello Stato per oltre 11 milioni di euro. È questa l'indagine portata avanti dalla Guardia di Finanza di Teramo nell'ambito degli interventi finalizzati al contrasto delle frodi nei settori ecobonus e sismabonus. Le operazioni, in realtà tuttora in corso, hanno permesso di individuare un gruppo imprenditoriale teramano operante sulla costa, il quale, mediante l'emissione di fatture per opere di fatto mai realizzate e per un valore complessivo di quasi 20 milioni di euro, ha beneficiato di un credito d'imposta da ritenere allo Stato inesistente. Al momento sono stati segnalati alla locale autorità giudiziaria e agli amministratori delle società coinvolte ed è stata proposta l'adozione della misura cautelare reale del sequestro preventivo, anche per equivalente, nei confronti degli indagati e nei confronti dell'ente. Il reato, sempre secondo le indagini che sta svolgendo proprio in questi giorni la guardia di finanza di Teramo, avrebbe consentito al gruppo imprenditoriale di ottenere profitti addirittura per un valore di 11 milioni di euro. Si va verso lo slittamento delle tre udienze sulla tragedia dell'hotel Rigopiano, previste per il 26, 27 e 28 ottobre. Le ragioni nascono dallo sciopero degli avvocati di Avezzano. Sentiamo. Lo sciopero degli avvocati di Avezzano dal 19 al 27 ottobre rischia di far slittare le prime tre udienze fissate al Tribunale di Pescara per discutere della superperizia sulle cause della valanga che il 18 gennaio 2017 distrusse l'hotel Rigopiano di Farindola, provocando la morte di 29 persone. Nell'ultima udienza di aprile il giudice Gianluca Sarandrea aveva calendarizzato gli appuntamenti più importanti, anzi decisivi, per poi arrivare alla fase processuale vera e propria il 9 novembre. Il 26, il 27 e il 28 ottobre era in programma la discussione della superperizia disposta dal giudice sugli esiti cui sarebbero giunti quattro esperti del Politecnico di Milano che hanno risposto ai quesiti posti dal giudice sul come e perché avvenne la valanga, su eventuali irresponsabilità di alcuni tecnici o amministratori pubblici e sulla gestione dell'emergenza. La decisione ufficiale sul rinvio dovrebbe arrivare direttamente il 26 ottobre ma non si esclude una soluzione anticipata che possa dunque portare a una nuova programmazione delle tre giornate di udienza. Uno stand di ben 110 metri quadrati per promuovere le proprie eccellenze, le proprie bellezze. La regione Abruzzo è presente alla fiera del turismo Travel Experience di Rimini, una delle più antiche che riguarda questo settore. Facciamo il punto nel servizio. L'Abruzzo è una delle regioni che meglio sta rispondendo alla ripresa del comparto del turismo dopo il blocco della pandemia. Lo ha detto l'assessore al turismo Daniele Damario, presente alla 59esima edizione di TTG Travel Experience. La regione Abruzzo è infatti presente alla manifestazione di Rimini, una delle più antiche nel panorama della promozione feristica del turismo, con un proprio stand di 110 metri quadrati realizzato in collaborazione con le camere di commercio di Chieti Pescara e Gran Sasso. Ma diciamo che i dati a partire da gennaio ad agosto 2022 ci danno un più 17% rispetto al 2021 e comunque ce li posizionano sui numeri pre-Covid, quindi sicuramente un risultato importante che però noi pensiamo di consolidare e di incrementare anche la prossima stagione. La presenza a Rimini conferma la strategia della regione che intende promuovere il proprio territorio nelle piazze fieristiche più importanti per una ripresa dell'intero settore. La regione Abruzzo è una regione ancora poco conosciuta ma che offre tanto a chi oggi quando va in vacanza non vuole solo vedere ma vuole fare, quindi piste ciclabili bellissime lungo la costa, sulle aree interne, in montagna, borghi incantati ricchi di storia e di cultura, tre parchi nazionali, un parco regionale, una miriade di aree protette. È evidente che dopo il Covid la tendenza dei turisti rispetto alle mete da raggiungere sono cambiate. Prima era un'esigenza di frequentare aree poco antropizzate, adesso è diventata un'esigenza di vita perché insomma rilassarsi dopo lo stress all'aria aperta facendo sport oramai un'esigenza di tutti i turisti di tutto il mondo. L'occasione è stata anche quella giusta per l'assessore per fare il punto sulle prossime opportunità concesse ai turisti. Nella programmazione regionale abbiamo pensato anche alle aree sostacamper, tra virgolette ne abbiamo censite ben 98, più altre 19 ne abbiamo finanziate con un'ultima delibera di giunta, quindi tanta attenzione a questo comparto turistico che ha numeri sempre crescenti e che comunque ben si prestano a un territorio interno come quello abruzzese ricco di tante bellezze. Il 2023 sarà un anno molto importante per l'Abruzzo con tanti eventi che sicuramente richiameranno migliaia di visitatori, tra tutti spicca ovviamente il Giro d'Italia. Nel 2023 ci sarà la partenza del Giro d'Italia con la cronoprologo sulla costa dei Trabocchi e dopo la terza tappa con l'arrivo a Campo Imperatore sopra il Gran Sasso. Sicuramente sarà un momento di promozione incredibile perché avremo centinaia di milioni di persone che potranno vedere le nostre immense bellezze che vanno dal mare fino all'alta montagna. Parliamo di turismo, quindi di mare ma anche di montagna. In questo caso di montagna terramana perché Nicola Salini è stato eletto al mote, votato da tutti i sindaci, prende il posto dell'amministratore unico Ermanno Ruscitti, dovrà fare i conti ovviamente con tante problematiche del territorio e ci sono state non poche polemiche. Valle Castellana minaccia già di uscire dalla mote. Ambiente, sentiamo. Nicola Salini, in passato presidente ATER di Teramo e già nella struttura commissariale di Giovanni Legnini è stato eletto nuovo amministratore unico della mote Ambiente S.P.A., prendendo il posto dopo nove anni di Ermanno Ruscitti. L'assemblea, composta da 21 comuni, è votata ad unanimità per eleggere Salini alla guida di montagna e terramane e ambiente S.P.A. Sono molto contento e ringrazio tutti i sindaci che compongono l'assemblea dei soci della montagna e terramane per avermi accordato la loro fiducia in modo unanime. Naturalmente ringrazio anche l'amministratore unico che mi ha preceduto, lo ringrazio per il lungo ed importante lavoro svolto negli ultimi nove anni e fin dai prossimi giorni vorrò incontrare naturalmente tutti i sindaci soci affinché possiamo condividere insieme il percorso da tracciare. È sicuramente un percorso difficile, impegnativo, ma nello stesso momento sono certo anche colmo di opportunità. Opportunità a partire dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, come è noto, riserva un'importante quota al concetto della transizione ecologica, della valorizzazione ambientale, tematiche che rispecchiano la mission della società montagna e terramane. L'unico neo forse di questo incarico è stata già qualche polemica da dover affrontare. Il sindaco di Valle Castellana ha detto di voler uscire dal moto e più che una polemica verso di lei è stata una polemica verso il sindaco Gianguido D'Alberto. Come lo affronterà? Guardi, io non voglio naturalmente entrare in queste dinamiche che hanno riguardato i comuni soci. Come detto poc'anzi ringrazio anche il sindaco di Valle Castellana per la fiducia che mi ha voluto accordare. Naturalmente capisco che ogni comune può avanzare le proprie esigenze, le proprie richieste, ma non è un ambito che appartiene alla mia sfera competenziale per cui lo ringrazio per la fiducia accordatemi e spero che possa assolutamente continuare a restare all'interno della società. Dopo l'ufficio della ricostruzione adesso questo incarico non solo è nato qui ma conosce profondamente il territorio anche dagli incarichi che ha avuto. Che territori sono in particolare per quanto riguarda l'aspetto del nuovo incarico? Sono territori senz'altro bellissimi e questo è assolutamente noto, però dai primi colloqui avuti con i sindaci che compongono l'assemblea naturalmente mi sono reso conto che ci sono delle diverse problematiche nei vari territori. Naturalmente parliamo di territori in prevalenza situati nell'entroterra, quindi in zone abbastanza se vogliamo difficili da raggiungere soprattutto in determinati periodi dell'anno, ma sono certo che attraverso un'azione condivisa e coordinata riusciremo a trovare le giuste soluzioni per i vari comuni. La spiaggia di alimentazione è stata collaudata dalla regione Abruzzo. Di fatto l'esperto ha acclarato la puntuale esecuzione del progetto, sottolineando però che rispetto alle reali esigenze mancano ancora diversi metri cubi di spiaggia e di sabbia, poiché lo studio iniziale era stato condotto sulla base dei rilievi del 2018. Ma sentiamo Alex De Palo. C'è il collaudo della spiaggia di alimentazione di Alba Adriatica di fatto sparita. L'ingegnere collaudatore ha decretato l'avvenuta esecuzione dell'opera ritenendola conforme al progetto principale e alla variante che si era resa necessaria portando i metri cubi di sabbia da 93.500 a 112.900, variante che aveva comportato un aumento di costo di circa 300.000 euro in più rispetto ai 2 milioni previsti. L'intervento di ingegneria marittima può dirsi dunque conclusa e asseverata per cui l'impresa è eseguito quanto stabilito dal contratto. Il tecnico però non ha potuto tacere alcune difformità legate agli eventi meteomarini. Durante la visita di collaudo dello scorso luglio sulla spiaggia, infatti, in posizione leggermente arretrata rispetto alla linea di costa, è stato riscontrato un salto di circa 50 centimetri, il cosiddetto dentone, che corre parallelamente alla linea di costa per tutta la lunghezza dell'area oggetto di ripascimento, frutto delle mareggiate verificatesi dopo la fine dei lavori, le quali hanno risucchiato parte della sabbia depositata dalla draga, ridistribuendola sul fondale adiacente l'area su cui è stato eseguito l'intervento. Il collaudatore parla di smantellamento programmatico, tipico delle spiagge di alimentazione. Il fenomeno questo, messo ancora più in evidenza dai bagnanti localizzati a più di 15 metri dalla linea di costa, ma con l'acqua ancora abbondantemente sotto le ginocchia. Per quanto riguarda le due opere di contenimento, queste sono risultate affiorate, per cui la linea di costa è risultata più arretrata di circa 20 metri, a testimonianza del fatto che il fenomeno dell'erosione costiera non si arresta. Alla fine della fiera, insomma, è stato accertato che anche i maggiori volumi di sabbia scaricati sulla base delle analisi della linea di riva, eseguita tra il 1997 e il 2018, che avevano portato per l'appunto alla variante di sabbia per 19.000 metri cubi in più, non è stata sufficiente. Alla luce di questo, le previsioni di durata dell'opera della spiaggia di alimentazione è stata rivista a ribasso, cioè da 5 a 3 anni. Giovani agricoltori abruzzesi premiati nel corso dell'Oscar Green 2022 per la loro creatività e per i loro progetti innovativi. Ce li racconta Sara Del Vecchio. Le idee dei giovani agricoltori abruzzesi vincono per la loro creatività ma anche per l'innovazione. Le premiazioni di Oscar Green 2022 sono avvenute all'Aurum di Pescara. Spiccano i tappi della solidarietà con pensieri e desideri da conservare realizzati da giovani con disabilità e i quadri di muschio crittografati attraverso un programma di modellazione 3D. Soddisfatto di ricevere questo premio per un suo progetto che possiamo definire innovativo? Soddisfattissimo, sì, non me l'aspettavo. Per me è stato come un fulmine dal cielo. Ci vuole parlare proprio di cosa si tratta? Sono quadri realizzati con materiale della natura? Sì, allora sono tutti materiali naturali che vengono però stabilizzati, quindi vengono raccolti e stabilizzati, rimangono così inalterati nel tempo sia per il colore che per la dimensione che io, con i quali io realizzo i quadri, che prima di portare fisicamente la realizzazione fisica riporto in digitale per far vedere al committente come potrebbe venire l'opera una volta finita. Babalù, fattoria dell'amicizia, insieme a Cantinor Sogna ha realizzato un progetto. Babalù è un centro di urno dove ragazzi con particolari esigenze sono fruitori di lavoro e loro hanno realizzato le etichette, quindi nelle etichette ci sono i loro disegni e i loro sogni, così come sui tappi. I tappi riportano i sogni dei ragazzi ed esprimono quindi un concetto di solidarietà. E poi c'è anche il progetto dei vini ancestrali con lieviti imbriachelli con uno sguardo rivolto alla tutela e alla conservazione della biodiversità. Questi vini sono fermentati con questi lieviti selezionati sui frutti imbriachelli, un frutto imbriachello è zuccherino e si presta alle fermentazioni, sono ad esempio il sorgo, il sambuco, il ribes. Ogni anno viene selezionato un lievito, il lievito che performa meglio nelle prove di vinificazione e viene impiegato nella fermentazione di questi vini. È un ritorno alla naturalità. Apprezzo Cino Scappa dalla sua terra e riesce a reinventarsi, sono le parole dell'abruzzese fuori sede che a Pescara è stato accanto ai giovani agricoltori. Mi fa piacere essere qui perché sono tanti anni che parlo soprattutto delle cose agricole, come dico io, che rappresentano sia proprio l'agricoltura ma anche le tradizioni di una volta. Insomma tutto il mondo contadino che essendo io sì giovane ma abbastanza vecchio dentro ed essendo cresciuto con persone quasi tutte anziane e quasi tutti facendo parte di quel mondo mi rappresentano e mi piace raccontare semplicemente. Quindi è bello stare qui per conoscere iniziative di persone che restano in Abruzzo perché io in effetti mi chiamo fuori sede però ormai sto sempre qua, sono arminuto come dice la di Pietrantonio e quindi è bello poter stare qui oggi. Gino Bucci, l'abruzzese fuori sede, da sempre grande sostenitore delle tradizioni contadine abruzzesi, è stato accanto ai giovani della Coldiretti, vincitori dell'Oscar Green 2022. La cultura contadina dice può subire un'evoluzione come abbiamo avuto modo di constatare e seguire le novità per sopravvivere nel tempo senza però cancellare o dimenticare le origini. La minaccia del cibo sintetico è dietro l'angolo, bisogna assolutamente conoscerne i rischi. Io penso che qualunque innovazione debba partire comunque da un qualcosa di tradizionale, soprattutto in un territorio come quello abruzzese che magari è sempre stato chiuso, che però ha tante peculiarità che possono consentire all'Abruzzo di aprirsi verso altri territori. E quindi sì, partendo anche ad esempio mi chiedevi del dialetto, partendo dal dialetto si possono inventare nuove parole in quel senso, quindi è un serbatoio di cultura che può servire per inventare nuove parole partendo da antiche tecnologie o da antiche tradizioni contadine, si possono reinventarne di nuove che possono portare insomma a grandi sviluppi per l'Abruzzo e soprattutto far piacere alle persone in un certo senso. Soprattutto in questo periodo? Soprattutto in questo periodo e poi adesso ce la raccolto delle olive e poi arriverà insomma l'uva, il mosto, il vino cotto a breve e quindi sì, io poi sto sempre a bagnare, quindi insomma in Abruzzo si mangia bene e si vive bene in questo senso. E ora il calcio, il Pescara sabato all'Adriatico con l'Andrea punta anche sul sostegno dei tifosi che quest'anno si sono riavvicinati alla squadra. Sergio Cinquino. A volte basta poco per far scoccare la scintilla. Quest'anno sono state le amichevoli precampionato a far riconciliare la tifoseria con la squadra, prima ancora delle vittorie nel torneo di Cie, degli Esploi in trasferta e in Coppa Italia all'Adriatico. Che questa squadra nello spirito e nella guida tecnica fosse tutta diversa da quella della passata stagione e anche delle annate precedenti, i tifosi lo hanno capito subito. E del resto i tifosi hanno la vista lunga e certi particolari li colgono. Non solo dai risultati, che adesso stanno dando ragione, al gruppo di Alberto Colombo, terzo in classifica a tre punti dalle Battistrada, Catanzaro e Crotone, con quattro vittorie in trasferta in altre tante gare. Un gruppo umile, oltre che vincente, che ha ricostruito il rapporto con la curva e con la città, tanto che le medie presenze rispetto allo scorso anno sono nettamente superiori, con più di 4.000 tifosi a partita nelle gare casalinghe. Un gruppo che somiglia molto al suo allenatore Colombo, il Normal One, arrivato in estate al posto di Zeman, corteggiato dalla società per lunghe settimane, con la piazza che richiedeva l'allenatore Boemo, che in rival adriatico ha fatto cose speciali. Un allenatore Colombo che ha detto subito di essere un allenatore normale, un Normal One appunto, ma di concretezza, buonsenso e professionalità speciali. Chiunque entra fa bene in questa squadra, che ora si arricchisce anche di un difensore collaudato come Crescenzi, che conosce la piazza. Sabato arriva il fanalino di coda Andrea dell'allenatore abruzzese Mirko Cudini. Il Pescara di Colombo vuole e deve tornare alla vittoria all'Adriatico, e per farlo si affiderà, oltre che a un tandem collaudato come Lescano e Cuppone, anche ai giovanissimi, che sono la vera arma in più di questa squadra. Si comincia alle 14.30 e martedì si replica con il Giuliano al Partenio. Il città di Teramo è intenzionato a rinunciare a giocare le partite casalinghe allo stadio Bonolis, lo fa intendere il presidente Rastelli, a causa dei costi elevati che si dovrebbero sostenere per la neonata società. Ascoltiamo le ultime da Giussi Cingoli. Il città di Teramo sembra aver rinunciato all'obiettivo, annunciato ad inizio stagione, di tornare a giocare le partite casalinghe al Bonolis, e questo è un problema che in futuro potrà pesare non poco sulla società e sulla squadra. Abbiamo interpellato ieri telefonicamente il presidente della SSD città di Teramo e di Rastelli, il quale ha voluto innanzitutto ringraziare pubblicamente il sindaco di Montorio per la disponibilità che ha mostrato nell'offrire l'impianto e nell'aver fatto investimenti importanti per accogliere la tifoseria teramana. Poi il presidente ha continuato che fino alla fine della stagione, molto probabilmente, la sua squadra al 99% continuerà a giocare al Pigliacelli di Montorio. Rastelli ha anche precisato di aver sentito telefonicamente qualche settimana fa il gestore del Bonolis, Franco Iachini, e nell'occasione avrebbe offerto allo stesso una somma intorno ai 50.000 euro, che era quella prevista dalla Convenzione, ma l'ex presidente del Teramo l'avrebbe rifiutata, sottolineando che la Convenzione è superata e comunque la somma offerta non sarebbe congrua per le potenzialità espresse dall'impianto, ma soprattutto perché, secondo Iachini, non giustificherebbe l'arbitrato avanzato dallo stesso Iachini al Comune di Teramo per riequilibrare i conti della gestione dell'impianto. Sarebbe opportuno e auspicabile a questo punto un intervento economico forte del Comune di Teramo, magari attraverso sponsorizzazioni, per aiutare la società del nuovo Teramo per far sì che la squadra possa tornare a giocare in città. Certo è che chi dovrà adoperarsi per trovare una soluzione a questo dannoso problema sono in prima persona il sindaco Gian Guido Dalberto e Franco Iachini, non certo la SSD città di Teramo che la sua parte l'ha fatta. Tornando al campionato di promozione, l'appuntamento è per sabato a Montorio alle 15.30 contro l'Elicese. Nelle file biancorosse sarà assente l'attaccante Nikita, per squalifica e saranno da valutare le condizioni fisiche del difensore Alfonso Pepe che in settimana ha svolto allenamenti differenziati. E in merito al Teramo arriva una precisazione dell'ex patron Franco Iachini che dice «Nessuna offerta mi è pervenuta per l'utilizzo dello stadio Bonolis in questi giorni. Mi era arrivata tempo addietro e non certo per la cifra di 50.000 euro. Si trattava di una somma ben più bassa e comunque non rispondente ai parametri per la gestione dell'impianto». L'imprenditore Teramano Iachini, ex patron del Teramo, compie dunque queste precisazioni e spiega cosa è accaduto con il città di Teramo che ricordiamolo milita in promozione. «Faccio un esempio», dice Iachini, «se si vuole comprare una maglia apprezzata a 100 euro non si va alla cassa e si tirano fuori 30 euro per acquistarla. Resta da capire se si troverà un accordo e se il città di Teramo potrà giocare al Bonolis o se resterà di casa a Montori». E questa era l'ultima notizia. Io vi ringrazio per essere stati con noi vi auguro un buon proseguimento e arrivederci.